Missione compiuta per Yannick Sinner ce la fa, riesce infatti a vincere contro Kotov in ben due set, questa partita di tennis di ieri 29 aprile 2024, come due set il risultato finale di 6 a 2 il primo set, il secondo e l'ultimo 7 a 5. Quindi conseguentemente parlando Yannick Sinner va, accede direttamente agli ottavi di finale, e quindi grande soddisfazione per questo grande tennista italiano, altatesino, che non perde occasione di riuscire a vincere come effettivamente parlando è riuscito a compiere per la sua grande bravura, per la sua grande indigenza e per la sua grande capacità, nonché abilità. Va bene? Ci sono però dei dubbi che serpeggiano nell'aria per quanto riguarda il problema all'anca, vedremo cosa fare, viene riportato qua su web. E vediamo cosa è meglio per il mio corpo, userebbe to Yannick Sinner rispondendo alla vittoria contro Kotov per quel problema all'anca che lo ha letteralmente infastidito nella partita proprio di ieri 29 aprile 2024. Va bene? Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, complimenti a Yannick Sinner che è riuscito a sconfiggere Kotov, o Kotov per il si voglia. Ciao a tutti e una buona giornata.